Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sia benedetto il nostro Dio per le grandi cose che ha compiuto nella figura di Sant'Antonio a Padre. Spendiamo insieme il benedetto nei secoli il Signore. Benedetto nel secolo il Signore. Sii benedetto Signore nostro Dio che ci hai dato agli uomini il tuo Figlio splendore dell'eterna gloria. Questa fiamma viva del tuo Santo Spirito benedici questo fuoco che fa che diventiamo portatori di bene e costruttori di un mondo rinnovato nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nel Cielo, sia santificato il tuo nome. Occhio, perché il benedetto del Regno che si è parte dalla proprietà che il Cielo è costruendo. Occhio oggi il nostro Santo è diaglia. Direte il Re reproductive. Occhio mi ha chiamato il nostro chiesto. Occhio non ha fatto passare la tentazione. Occhio è aperta. la benedizione di ogni potente, quando scrive il Santo, scendo su un cuore, con voi mi manca sempre. Amm. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501